Nel corso del 2019 Imperia ha raggiunto le 300.000 presenze turistiche. La conferma arriva dai dati reali sui pagamenti dell'imposta di soggiorno, che parlano di oltre 282.700 presenze da febbraio a dicembre dell'anno passato. Considerando che mancano all'appello i numeri di gennaio 2019, quando l'imposta non era in vigore, e che i dati di dicembre sono in assestamento, secondo l'assessore Gianmarco Neglio, si può dire con certezza di aver raggiunto il traguardo che si era posto il sindaco Scaiola. Gli arrivi hanno superato nel corso del 2019 le 100.000 unità, divise al 50% tra settore alberghiero ed extra alberghiero, mentre sulle presenze si registrano numeri maggiori per case vacanza, reagri turismi e rispetto agli hotelle. Questi dati sono per noi molto utili, sottolinea Oneglio, perché più affidabili rispetto a quelli dell'osservatorio turistico regionale, che soprattutto sull'extra alberghiero, fatica a fornire una fotografia accurata dei flussi. Oggi abbiamo un quadro preciso della realtà turistica cittadina, che ci permetterà di programmare con più attenzione gli investimenti sulla promozione. Tra le varie attività, nel corso del 2019, l'amministrazione comunale ha introdotto il sistema yacht diffuso, ha creato un brand turistico cittadino, Imperia Authentic Experience, e ha ottenuto la prima storica bandiera blu.